Ciao a tutti, sono Marta Zambonna e sono una giovane di azione cattolica ambrosiana e da alcuni anni faccio parte del gruppo pedagogico ed è proprio insieme ai miei colleghi educatori pedagogisti del gruppo pedagogico che abbiamo pensato a un libro per voi da proporvi per questo tempo estivo, da leggere in ferie o da leggere nelle fresche serate estive. Il testo che vi proponiamo è Abbiamo bisogno di genitori autorevoli, di Matteo Lancini, un bravissimo psicologo e psicoterapeuta. Perché vi proponiamo questo libro? Per sbagliarti i motivi. Il primo è perché è molto agile da leggere, è fatto da tanti piccoli capitoletti molto comodi che si iniziano e si finiscono in un tempo breve. Il secondo motivo è perché tratta di tematiche estremamente attuali. È un libro pubblicato nel 2017 ma tratta di scuola, dell'uso di internet, di rimanere chiusi in casa, della crescita e quindi sono tematiche che quanto mai in questo tempo sono davvero molto molto importanti. E voi ci chiederete ma magari io non sono un genitore di un ragazzo adolescente ma va benissimo lo stesso perché voi sapete bene che l'adolescenza inizia da bambini e quindi è rivolto a tutti gli adulti che sono appassionati e presenti per questo tempo davvero davvero importante. E infine vi consigliamo questo testo perché parte spessissimo da esempi concreti della vita. Quindi è molto prezioso perché tiene insieme pensiero e vita, teoria e pratica e soprattutto dà uno sguardo ampio su tematiche davvero davvero importanti. Buona lettura! Ciao!